ariete è un periodo di minor affaticamento siete ancora attivi e concentrati su alcune questioni da risolvere ma tutto sommato avete una buona filosofia che vi consente di mettere più ordine nella vita toro il momento è favorevole e fa risaltare la sfera sentimentale che adesso assume un ruolo rilevante siete più disponibili e gli incontri possono rivelarsi galeotti utilizzate l'ottimismo per dare sapore alle giornate gemelli dovete attraversare una fase astrale un po pesante che solleva le vostre insoddisfazioni e vi toglie un po di smalto cercate di non disperdere le energie in qualche scontro inutile che non vi vedrà vincitori cancro la giornata manifesta un andamento positivo supportata da angolazioni astrali molto favorevoli che vi consentono di rilassarvi di allontanare le preoccupazioni dedicandovi a voi stessi a ciò che più vi appaga leone marte armonico stimola la vostra intraprendenza ma a volte suscita una sorta di stanchezza dovuta anche alle tensioni che avete subito nell'ultimo periodo prendetevi una pausa di riposo e riflessione vergine il cielo astrale attualmente si appesantisce con un assetto faticoso che suscita qualche disagio siete un po fuori forma e dubbiosi su alcune questioni personali l'amore diventa fonte di conflitti o lontananza bilancia momento un po aspro nella percezione di atmosfere che poco vi gratificano siete comunque inclini all'azione e a mostrarvi meno passivi mantenete la visione chiara dei vostri obiettivi scorpione giornata positiva incastonate in un periodo ricco di vantaggi e opportunità per mostrare il lato migliore di voi stessi una particolare inclinazione a compiacere amicizie e chi amate chiude il cerchio sagittario qualcosa non fa tornare i conti siete preda di un rallentamento nei programmi di incertezze le faccende di cuore rischiano di venire contaminate da dissapori che sono il risultato del vostro nervosismo capricorno momento positivo e ricco di soddisfazioni il rischio però è quello di sopravvalutare una situazione o eccedere nel voler dimostrare le vostre capacità soprattutto in ambito lavorativo acquario le configurazioni astrali non vi investono più con la loro intensità e adesso avete una pausa relativa nella quale rimettere ordine nella vostra mente e nella vostra quotidianità anche se per voi è una vera impresa pesci un accumulo planetario nel vostro segno rafforza le vostre inclinazioni personali vi offre il modo di affrontare positivamente le giornate e regala senso di appagamento e soddisfazione buone stelle